Allora, Cricchetto, questo si attiva con la voce. Ma, d'altronde, oggi tutto funziona a comando vocale. Beh, credevo che mi avreste fornito un travestimento. Voce riconosciuta. Funzione mimetica attivata. Forte! Ehi, trasformami in un camion tedesco. Eseguo richiesta. Guardate, ho le bracche tirolesi. Ora in un camion da paura. Eseguo richiesta. Voglio succhiare la tua benzina. Ora, venditore di taco. Eseguo richiesta. Un drugster. Eseguo richiesta. L'idea sarebbe quella di non dare nell'occhio, Cricchetto. Cioè, fingo da essere un autocarro qualunque. E lasci il resto a noi.